Questo è stato un gesto di grande coraggio, di grande coraggio, Sarri si dimette, Sarri si dimette dalla guida della Lazio. A mio avviso questo è un gesto che il nostro allenatore Max Allegri dovrebbe imitare, avrebbe dovuto imitare già l'anno scorso. Non mi interessa chi è il sostituto, nemmeno lo leggo, volevo comunque darvi la notizia per commentarle insieme se vi va. Nel senso che quando si capisce che qualcosa si rompe, nello spogliatoio, con i tifosi, con la realtà, con i numeri, che ovviamente con l'era Lazio stanno imbarazzanti, ma pari a mio avviso, e fidatevi, non dico scivenze, della Juventus, di come stanno andando le cose, perché comunque parliamo della Juventus, non parliamo della Lazio, che ripeto, l'anno scorso comunque ha fatto un buon campionato, è tuttavia un percorso in Champions dignitoso. Si è arrivato comunque l'onestà intellettuale di dimettersi e di dire basta. Il mio ciclo nella Lazio, bianco-celeste, termina qui. E voi ragazzi come la vedete? Come la pensate? Allegri dovrebbe fare la stessa cosa? Grazie a tutti.